Servono accertamenti ulteriori su alcune aree che rientrano nel progetto per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Due settimane fa il sindaco Lucio Greco aveva preannunciato che le carte del progetto sono all'attenzione dei tecnici e venerdì scorso si è tenuta una conferenza di servizi. Le parti si sono riaggiornate, l'agenzia del demanio ha la necessità di valutare lo stato dell'arte di tre aree che ricadono sotto la propria competenza. Le aree di riferimento sono quelle dell'ex Lido Concadoro, dell'ex Lido Eden e dell'ex Lido La Conchiglia. Sono tutte toccate dal progetto del secondo tratto del lungomare. Si tratta di verifiche che saranno effettuate proprio dall'agenzia e non riguardano il comune, lo ribadisce anche il sindaco Lucio Greco. La riqualificazione del secondo tratto del lungomare che si aggiungerebbe a quella già effettuata negli scorsi anni ricomprende l'area che dalla sede della capitanera di Porto arriva fino all'ex Lido La Conchiglia. In totale il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Oltre a queste verifiche per il resto non dovrebbero esserci altri problemi, così spiega il sindaco greco che sta seguendo la procedura. Il primo cittadino ritiene che l'obiettivo da perseguire sia quello di concludere l'iter prima possibile. Il progetto era finito nell'elenco dei tagli decisi dalla regione per il programma di finanziamento del patto per il sud. Sembra però che le risorse possano arrivare dalla programmazione complementare che fu la soluzione di riserva messa in campo per cercare di rimediare alle somme depennate. Nelle ultime settimane in realtà è emersa anche un'ulteriore strada alternativa alle precedenti. L'ipotesi potrebbe portare al programma di finanziamento ministeriale Rigenerazione Urbana che ha già permesso all'amministrazione comunale di ottenere fondi per 5 milioni di euro destinati al progetto per la riqualificazione dell'area di Montelungo. Dagli uffici romani hanno fatto sapere dell'apertura di una seconda finestra per presentare altri progetti eventualmente finanziabili. In municipio non si è esclusa l'opzione proprio del progetto del lungomare.